Intanto siamo delusi perché abbiamo dovuto attendere quasi un mese per poterci confrontare con il management alla ASL e con l'assessore Verie e il direttore alla salute da Mario. In secondo luogo abbiamo voluto evidenziare l'assenza di comunicazione verso l'utenza e i cittadini rispetto ai gravi disagi. Occorreva chiarire con forza e da subito quali erano le difficoltà e con quanto tempo quelle difficoltà sarebbero state ripristinate e come sarebbero stati erogati i servizi di lì a quel periodo sufficiente per poterli tornare a erogare. In secondo luogo vogliamo chiarezza rispetto alla vulnerabilità del nostro sistema, del perché questi disagi hanno attanagliato la ASL e l'Aquila ma si sono poi diffuse anche sul resto della regione. Perché con tutte le rassicurazioni che pure ci sono state fornite il dato vero a distanza ormai di un mese è che c'è un enorme disagio da parte di cittadini, pazienti, famiglie che non riescono a vedere erogato il servizio assistenziale che richiedono e disagi enormi dentro l'azienda per operatori e tra operatori che sono costretti a lavorare quasi in trincea con i fogli di carta come si facevano decenni e decenni fa. Così non va, chiediamo chiarezza e da questo punto di vista finalmente Marsilio dopo un mese si degna di venire in consiglio regionale e fornirci alcune risposte.